buongiorno da matteo barberi for meeting allora vediamo in questo video mi sono chiesto da un po di clienti lo vado a rifare in questi file minutes come utilizzare striyard per fare il vostro evento live personalizzato e come integrarlo informati partiamo subito con vedere come si utilizza striyard la striyard accettate sul vostro motore vado a condividervi lo schermo e dentro di là vado in striyard a questa parte ok dovrei essere di qua ok andiamo di qua allora striyard basta andare su striyard.com e entrate con il vostro account per poter fare utilizzare le personalizzazioni andate sul profilo non quello prima quello professional se non sbaglio 25 dollari e avete la possibilità di gestire i vostri broadcast cioè la vostra gestione molto semplicemente entrate fate crea broadcast che cosa ci permette striyard di collegare velocemente che cosa volgate destination new destination che sono i profili social facebook page fan piuttosto che quella personale profilo personale linkedin youtube con il professional le gestite contemporaneamente la stessa diretta su più canali cioè su più social in contemporanea ma cosa ha fatto striyard ti permette di fare anche quello che si chiama customer rm tp che lo vediamo tra un attimo cioè collegarlo su un server su un vostro server quello che serve a noi per avere la partecipazione dell'utente in modalità personalizzata totale cioè che lui viva dentro for meeting lo vediamo tra un attimo ma prima di fare questo andiamo su broadcast creiamo broadcast la cosa molto carina che potrebbe anche solo fare dei broadcast di registrazione che si chiama skip record only questo ci permette questa funzione di andare a fare per esempio una registrazione di un relatore io registro faccio adesso vado a mettere prova faccio crea broadcast quello entro nel mio broadcast adesso dovrei avere le telecamere bloccate presumo perché una dall'altra parte vedi che è bloccata perché non posso utilizzarla da questa parte entro come regia entro in broadcast e in questo momento è la facciata della regia ok questo è lo schermo della regia la regia come voi vedete io adesso potrei fare record e registrarmi il mio evento e poi scaricare la mp4 e cosa facciamo come prima cosa per personalizzare andiamo a vedere le personalizzazioni e poi l'ok allora se creo posso andare su edit e selezionare i miei social network e collegarli mentre andrò a fare live perché passerò da record a live adesso andiamo a vedere le funzioni che sono sulla destra il banner andiamo su prima su brand ora brand ci permette ok non si riesco a andare su brand ok scegliere il colori ovviamente che posso mettere sulle parole cioè i temi default minima davio black se vado su banner i banner sono le parole per più si scrive adesso e vado a visualizzare vedete show ad show viene come fare qui vado a cambiare con la ditina la cosa e metto il mio nome del mio evento per quello facciamo prova ok io durante la regia posso fare che cosa farlo vedere con il colore o toglierlo via se se voglio utilizzare l'effetto breaking news ci permette striar di fare una semplice cosa entriamo così modifichiamolo ok di fare lo scroll agro faccio così save e vedete cosa succede breaking news che quello sotto mi preparo tutte le mie nomi dei miei docenti dei miei relatori i temi e passaggi in quattro secondi via pronto abbiamo già dato il la personalizzazione durante la diretta poi andiamo su brand posso mettere il logo in alto a destra io non lo metto perché ho creato un background c'è uno sfondo nel caso specifico ok poi abbiamo gli overlay sono i tappi cioè le slide che possono essere vedete questo è il mio l'ho messo come overlay anche lato sfondo posso mettere di creato delle immagini tipo tipo questa e mi metto l'immagine me la sono preparata per quello metti i tappi delle immagini me le preparo tutte per cui io durante il mio evento faccio nient'altro che andare qui ti metto questa a questa ok tutto caccio me lo faccio di col dito in cui più tac carico mi sono creato il mio jpeg già bello pronto durante la mia vera diretta via fatto pronto per l'uso e adesso esco a chiudere questo è il chiamato overlay poi abbiamo le clip video fantastiche io vi creo la mia clip video le cerco modalità gratuite le pago fate come volete voi io me le preparo il mio bei countdown già pronti tac via mando il countdown so che posso partire e via ok mi ho preparato un ringraziamento mi sono preparato dei video per esempio tipico di sponsor perché mi dà il cliente ok io sto lavorando questa è la nostra presentazione per esempio che mandano prima delle entrate mi sono preparato un video di thank you da pronto mi sono preparato l'effetto dell'aereo quando stiamo partendo per quando facciamo il meeting ok poi gli effetti iniziali poi ci sono i background come vedete qua ti dice anche la grandezza il formato jpeg 1280 per 720 ed è che io ho selezionato questo background se voglio mettere questo guardate che cambio il background di gan sarebbe tutto quello che sta sotto per quello io vado a personalizzare totalmente la mia esperienza ok questi sono i background che vado a utilizzare poi posso fare show display nei vado a togliere i nomi del partecipanti quando entrano se voglio io adesso che voi vedete in background non c'è nessuno ma c'è la mia telecamera è interessante per invitare i relatori è una vera cazzata tac invio la copia link punto finita lì loro entreranno da qua direttamente io li vedo in background come se fosse adesso come vedete regia ci clicco sopra e dentro io clicco tutti li faccio entrare ma come li faccio entrare li posso togliere remove li tolgo ok mi è entrata posso decidere questo vedete tutte quelle che sono le telecamere questo vuol dire due avvicinati qua metto in questo è l'effetto per fare discussion o le tavole rotonde dove abbiamo al centro quello che parla gli altri vedrò sulla destra voglio solo far vedere solo slide voglio far vedere slide più le persone solo il primo piano la persona vedete che c'è un piccolo puntino per sviluppare al suo interno quello già una serie già di inquadrature diverse posso mettere posso toglierle perché ho la possibilità di giocare anche sulle telecamere lato personalmente sempre all'interno del mio background lo super personalizzato non c'è nient'altro da imparare questo qua lo sto facendo io lo potrebbe fare la tua segretaria niente di particolare di figo o ci vuole la mega esperienza però sto facendo fare una prima personalizzazione che gli altri software non mi fanno e questa è a prova di bambino io dico a prova di stupido ok se voglio essere un po di più devo far condividere le slide il relatore fa così può scegliere tra share screen e sceglie il suo computer e manda le slide lo posso fare io per conto del relatore o come regia o se lo fa lui in autonomia se ho preparato dei video mi sono posso accedere alle mie cartelle come faccio io adesso vedete mi sono già preparato dei video mando il video di questo evento ok ok ce l'ho sotto tac lo mando voglio mandare in zoom tac lo mando in zoom ok questo è un video di esempio ok lo tolgo lo rimuovo li rivolgo io mi rimuovo io tutto qua ok abbiamo fatto la prima parte interessante cioè durante le dirette edit lo mando sui social network se devo collegarlo a for meeting che questo è il bello per raggiungerci un peso da 90 durante uno il tracciamento completo rispetto ai crediti cm prima cosa ma la cosa fondamentale che personalizza dove arrivano per quello dico come si chiama verso questo bel più si chiama customer rtmp clicco adesso contemporaneamente io mi sono aperto un corso su for meeting for meeting a tutti i clienti noi offriamo la possibilità di collegare qualunque corso allo streaming se hanno acquistato il prodotto streaming si clicca su questo bellomino e lui ti dice ecco qua i parametri vedete rmtp c'è questa stringa codice della stanza xt 25 user name password cosa faccio vado di qua rmtp string key name e password che sono quello che tu vai a mettere qui e fai ad rmtp server metto in cui fai qua adesso non andiamo a farlo non lo facciamo si creerà qua sotto che è collegato alla stanza quando fa live parte dove dove parte ma dove parte andiamo a vedere dove parte parte esattamente in segreteria lo troverete qua come player e gli utenti a casa dove lo vedono in questa modalità facciamo un esempio gli utenti a casa faranno così facciamo ipotizzato che vuoi creare il vostro evento si collegheranno dal vostro sito per quello altro entrato personalizzata cliccano metteranno la sua user name la passo perché noi formiamo lì friend accesso facciamo qua prendiamo una una persona che già vediamo se ce l'ho dentro a fiodor di esserci cancellato è sempre cancellato il pc fiodor mi diamo se io tutti no no adesso vediamo un po se qualcosa c'è questo qua non so se ho correttamente incorretto sì per una stanza ci arrivo ok questo è un corso vediamo se è esattamente un corso con la prova vediamo un po un secondo accetto di qui non è attivo live ok la segreteria accede live in live verrà messo nella home page cioè accedo vedo il tracciamento totale log in log out uscito perché lo vedo io trasmetto come se fosse in netflix ok cioè esattamente in diretta qua dentro decidere a poi come decidere la tab di navigazione ma va qua dentro logano video subito ok in diretta dove in una pagina completamente customizzata il cliente in cui fa il piccolo cosa che qual è l'effetto che diamo ai clienti ritornando da questa parte io faccio un evento dove gestisco sia la dinamica dell'evento che la pagina d'accesso questo è stream yard ecologico quello che posso dare a voi adesso andiamo a togliere la condivisione e ritorniamo qua nella parte finale in questi 11 minuti 51 vi ho fatto vedere come si utilizza stream yard ok volete fare un evento personalizzato dall'iscrizione alla presenza all'erogazione l'unico modo è farlo in streaming ok e attraverso una piattaforma che traccia che traccia tutto cioè non mi fa andare mai fuori dal sistema questo è il quello che possiamo fare noi come virtual meeting da questa parte qui chiudiamo se non ci vediamo doppi ok torniamo qua ok questo è quello che vi ho fatto vedere in questi 11 minuti di fare un evento dove dall'inizio alla fine è vostro cioè esclusivo cioè è vostro l'evento non è di zoom non è di go to webinar non è di cazzi contramazzi ma è di vostra proprietà usate un serve streaming che quello vi permette di decidere tutto la personazione totale facevo un esempio con il mio cliente oggi si trasmette da zoom nel video sul mio canale youtube trovate anche il video come incorporare come utilizzare zoom streaming che è molto interessante di così di utilizzarlo per i nostri clienti o per chi utilizza software di formazione online perché l'impatto da un punto di vista economico cioè di money adesso di voi è esaltante c'è raddoppiata triplicata il prezzo di vendita ok questo è il caso specifico pensate avere di fronte un sponsor di fronte un cliente è il vostro sponsor di fatto quello che vi paga un conto è dagli zoom un conto è dire ecco per te l'ho fatto per te ok l'ho fatto per te trovate un video interessante che vi ho messo anche in youtube che si chiama la redemption c'è cosa significa oggi fare redemption con i clienti e lo strumento per fare redemption sono gli streaming sono il sono la formazione personalizzata tutto il resto erogazione voi dovete fare i soldi con i vostri clienti con gli sponsor o con i clienti ogni dato il servizio che è vostro che è vostro se gli altri percepito di basso prezzo come poteva essere inserito zoom personalizzato chi vuole utilizzare per utilizzare zoom e cambiare solo il logo di zoom ma stai sempre dentro lì di zoom e ricordiamolo non stai dentro la piattaforma di altri costa minimo 10 licenze che sono zoom business cioè 200 euro al mese ok solo per togliere due link uno sfondo ma non l'accesso non è ancora personalizzato ok e lo abbiamo 200 euro cioè 2400 euro all'anno è ok solo per avere il la possibilità di togliere quattro loghi ok il logo di zoom qui lo fate in streaming vi togli loghi subito col professional e ti 5 euro però tutto tutto che avete visto in questo video è compreso nell'aperto professional io non sono non vendo e non guardo su zoom su striard si può fare con obs con win x se volete stesse cose si può fare in sala si basta un po di attenzione oggi i nostri clienti lo fanno con una segretaria clicca come faccio io banner togli mettere se vogliono fare le cose sempre più grandi lo vanno in mano ad aziende che sanno usare poi le telecamere sanno usare i video sanno fare cose perché sanno usare software di maggiore personalizzazione vi posso dire che un evento così come quello che vi faccio vedere adesso un altro evento di due secondi che questo questo è un evento andiamo un po su video che questo ve lo lancio come vedete questo è un video fatto in chromo key fatto dal nostro cliente che mi va gruppo e che la ringrazio lo facciamo un po di sponsor al nostro provider ok perché a lavoro con una regia molto molto bravi in sala hanno ricostruito uno studio come se fosse un studio personale e lo trasmettevano dove in striyard lo striyard era incorporato dentro un corso nella nostra piattaforma for meeting punto personalizzazione totale questo è un evento come si vende questo evento si venderà meglio o si venderà peggio rispetto ad un a andare su zoom questa è la domanda che faccio a voi clienti se questo non ce l'avete dovete averlo perché se no siamo di fronte a un evento che non vi permette di guadagnare ok lo farete in sala perché domani dal 15 di giugno ci siamo quasi abbiamo o primo luglio dipende un attimino avremo la partenza in aula e ma però l'utente a casa come vuol vivere quell'esperienza come vuol viverla vuole ancora avremo molte persone che staranno a casa ma è ovvio che sì che non vorranno perché abbiamo abituato un anno e mezzo a stare su una bella poltrona o sul divano a seguirsi l'evento quanti saranno disposti e poi c'è un discorso anche organizzativo che avete degli obblighi maggiori di sicurezza non potete più prendere le persone all'ultimo minuto devono prenotare o scelto online o scelta fisica queste sono cose che con voi parlano di giorno con voi clienti per quello noi su questo vi diamo il massimo supporto avere un sistema già incorporato già con lo streaming bello pronto che in aula arrivi colleghi il tuo pc te lo mandi direttamente con gli effetti speciali bello grafico eccetera pronto e a casa vivono la stessa più o meno la stessa esperienza ovviamente è diverso tra l'online e l'offline però possono viverla possono interagire possono parlare cioè questo è il bello dell'online seguito con più dettagli lo zoom va bene per fare cose per chi poi sa usare programmi che stanno dietro a zoom ok perché non è che zoom non si utilizzi ma di avere la capace di software molto più evoluta per fare le cose con zoom qua in realtà con lo striar faccio quello che voglio io ok ma lo fa chiunque lo fa chiunque ok non lo fa più questo è come dire democratizzare l'utilizzo lo streaming ok con una qualità alta qualità alta grazie per vediamo se ho qualcosa ancora da farvi vedere ma si faccio vedere qualcosa video file vediamo se avevo questo e questo è proprio una registrazione questo ok questo vi faccio vedere questo a tutti io sono in realtà tutto ciò questo banalmente è quello che potete fare ok in registrazione con striard e trasformarlo in fada sincrona perché non ho più bisogno di fare mega editing perché se mi creo un 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 background già pronto come ha fatto loro che vedete qua no ok vi faccio vedere meglio ok voi vedete che poi io da background lo registro subito perché io chiamo il relatore gli do link mi metto a sedere così io non mi vedo metto rec lo scarico lo metto in fada ma è già pulito bello si presenta bene con i suoi loghi con il suo cioè non c'è il lavoro calcolate che ogni volta che fate fare un lavoro di editing può essere anche banale potrebbe essere un layout e il logo vuol dire che su ogni video devono lavorare cioè costi per esempio ho preso i costi degli scorm che non sono così più importanti come prima perché i tracciamenti vengono fatti oggi con un sistema html 5 e cambia la solfa cioè abbiamo costi molto più bassi la qualità è anche superiore perché se faccio un layout come questo relatore casa sua ok layout le saranno preparate belle i loghi li vedete qua belli preparati del gruppo non c'è più niente da fare ve lo sono preparato prima registro tutti i relatori da casa loro li metto non li metto neanche insieme di carico nei moduli dell'applicazione fare ho finito il mio corso ok diciamo che tutti i nostri clienti fanno così e hanno una qualità più alta rispetto allo standard con costi più bassi cosa volete di più come dice qualcuno hai quantità maggiore a prezzo più basso direi che non accettarla è veramente un po da furiosi grazie a voi veramente per l'interessamento e buona streaming a tutta voi e alla prossima diretta live concreta moduli e vedremo magari anche altri software di gestione grazie a voi buona giornata da matteo barberi comunque domanda scrivetemi ciao